Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti Nuovo video Chiacchiericcio, come state? Vlog? Sì, sto facendo tanti video oggi Perché mi sta piacendo a me E anche perché mi diverte Comunque Questo video Vuole essere l'intrattenimento Perché mi piace fare questi video così Allora, aspettate un secondo Allora, tentavo di sistemare l'inquadratura Ma non c'è niente da fare Non so cosa abbia questo telefono Perché non sto Cioè, non sto registrando con l'iPhone Ma sto registrando con un altro telefono Allora, ragazze miei Ragazzi miei Volevo semplicemente Parlarvi di alcune cose Che ho fatto in questi giorni Che sto continuando a fare Ovvero, cercare di Sistemarmi Tutta la casa Cercare di mettermi in ordine Anzi, voglio fare un video Motivazionale Sempre dove esistevo le mie cose Non so se posso riuscire Però Ci voglio Ci voglio riuscire In qualche modo Cioè Era bella Aperta E mi stavo per cadere tutto Perché era aiuto Però vabbè Niente E nulla Appena posso fare un video di trucco Non prometto niente Però voglio fare un video di trucco E quindi Quindi nulla Questo è quanto Solo per parlare un po' con voi E per dirvi semplicemente Che E parlare Di Di cose che mi piacciono a me Come il make up Come il video vlog E tante altre cose E vabbè E niente Qui c'è un'altra pochettina Che io non so ancora Cosa spetta A trezzare Tutti i prodotti Che ho qua dentro Vedete Già Nera 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 Come la notte E nulla Già Aspettate un secondo Abbagliando i cani Come pazzi Niente Il nostro Oncolino Di suo Stava Parlando con il figlio Vabbè Niente E nulla Ragazze mie Cosa voglio dirvi Che voglio fare un video di trucco Ma non so ancora Quando lo farò Vabbè Niente E nulla Fatemi sapere nei commenti Se si sente Il video Il mio video Con questo altro telefono Perché non ne vedea Poi qua C'è una cosa strana Che non vedo cosa sia Vabbè Curiosa Sta cosa E niente Aspettate un secondo Che provo a tuirla Se ci riesco Non ne ho detto Aspettate un attimo Ah no Dove sta cadendo tutto il video Madonna Che Pizzaro Vabbè Nulla Perché mi vede una cosa Cosa molto strana Qui Non so cosa sia Va bene Questi giorni Mi sono truccata poco E nulla Perché Tra facendo e cose Non so L'esito a truccare Comunque Va bene Niente Bene ragazzi Questo era un video Di pochi minuti Per parlarvi un po' Niente Perché era nulla Cosmico Ma vabbè Dettagli Ho staccato tutti i wifi Di questi telefonini qua Perché Perché si ragazze Aspettate un secondo Ah A dopo Anzi Ho un altro video Perdonatemi Ma oggi Non so veramente Cosa dire Con me Ciao Ciao